L'intervista di Euronews con Nicolás Maduro scatena reazioni diverse. L'ex ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis ha detto che Bruxelles dovrebbe smettere di seguire la linea degli Stati Uniti, anche se non giustifica la violenza usata da Maduro. L'Unione Europea sta seguendo ciecamente Washington in modo ambiguo, rendendo impossibile qualsiasi tipo di negoziazione sul suo debito e quindi distruggendo la vita della maggioranza dei venezuelani o aiutando queste azioni malvagie. Accuse negate dagli eurodeputati, Ramon Juaregui ha seguito la situazione in Venezuela, sostiene che l'Europa è alla ricerca di un dialogo ed è contraria a qualsiasi presenza militare. Gli americani hanno attuato una strategia che provoca quella che chiameremo una implosione interna. Non vogliono più negoziare, non vogliono un gruppo di contatto. Noi stiamo cercando un negoziato che renda possibili le elezioni a breve termine e con garanzie. Beatriz Becerra sostiene da molto tempo l'opposizione venezuelana. Ritiene che l'Unione Europea abbia commesso un grave errore a ascoltare soltanto una campana e che non dovrebbe essere del tutto imparziale. Nicolás Maduro per una volta ha ragione. L'Unione Europea non è imparziale né equidistante. Ha preso posizione a favore della democrazia, dei diritti umani e soprattutto del rispetto delle istituzioni. qualcosa che Maduro non ha solo minato durante il suo mandato ma lo ha gravato in modo molto serio.